Benvenuti nella cucina della redazione di Cook. Oggi è con noi lo chef Leandro Luppi di Vecchia Malcesine, un luogo magico sulla sponda veronese del Lago di Garda. Buongiorno a tutti. Cosa andiamo a preparare oggi? Oggi è un piatto un po' storico per noi, una rivisitazione della carbonara, quindi l'abbiamo chiamata la nostra carbonara di lago. Vediamo in un minuto come prepararla. Grazie a tutti. E questa ricetta è un po' una tua firma da oltre 20 anni? Sì, è un nostro piatto storico. L'idea è appunto di ripresentare un piatto importante della cucina italiana e dargli un taglio un pochino diverso. Quindi una crema d'uovo partendo da un uovo cotto, la pasta girata solo con un po' di burro fumicato e il lavarello croccante sopra. La percezione è quella di un guanciale. Una ricetta golosissima che non ci resta che provare a rifare a casa. Grazie chef per essere stato con noi e a voi per averci seguito. Grazie a voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.